Musica 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 Ho qui ragazzi oggi la nuova waist bag di Mollins Un super marsupio nuovo con questo tessuto carbon look Studiato per tutti gli appassionati della pesca spigli Comodo lacione per le spalle e soprattutto anche in vita Un sacco di vani e portaesche all'interno quindi molto molto comodo E anche un gancio staccabile per mettere ad esempio un guadino o un releaser o appunto una bottiglia d'acqua Molto comodo, si può anche spostare davanti e dietro per tutte le vostre esche e teste piombate Una cosa molto comoda, bello, un sacco di funzionalità, una delle novità per questo autunno di Mollins Venitelo a scoprire qui a Seregno nel negozio Sportit o appunto sullo spazio web sportit.com Musica